se pensate che le frittate si possano fare solo con le uova con la ricetta velocissima di oggi vi dimostreremo il contrario utilizzando la farina di ceci ma prima la sigla ecco gli ingredienti che vi serviranno due bicchieri e mezzo di farina di ceci due bicchieri d'acqua una zucchina una cipolla rossa piccola olio extravergine d'oliva quanto basta curry, sale e peperoncino quanto basta facoltativamente potete aggiungere anche qualche pomodoro secco dopo averlo fatto rinvenire cominciate sminuzzando la cipolla mettetela quindi sul fuoco in una padella con un velo d'olio extravergine dopo averla fatta velocemente imbiondire aggiungete anche la zucchina insieme a un pizzico di sale e al peperoncino tritato tagliate la prima a rondelle e poi ancora a metà fatela andare in padella per qualche minuto con la cipolla mentre aspettate potete dedicarvi alla preparazione della pastella aggiungete in una ciotola la farina di ceci, il curry e l'acqua prevista dalla ricetta mescolate quindi energicamente con una frusta in modo da evitare la formazione di grumi non dimenticate naturalmente un pizzico di sale alla fine otterrete una pastella liscia e omogenea prima di versarla nella padella insieme alla zucchina e alla cipolla aggiungete a questi ingredienti anche i pomodori secchi rinvenuti se avete deciso di usarli a questo punto unite anche la pastella chiudete con il coperchio e fate cuocere finché la frittata non si sarà rappresa e si staccherà facilmente dalla superficie della padella giratela quindi aiutandovi con un piatto e fate cuocere all'incirca per lo stesso tempo anche sull'altro lato ed ecco la frittata una volta pronta con la sua doratura tipica e un sapore molto particolare vi invito davvero a provarla vi lascio con una piccola sequenza del risultato finale e vi do appuntamento al prossimo video non dimenticate di iscrivervi per restare sempre aggiornati con le novità del canale alla prossima ciao